Un bel movimento settembrino, una gran bella flotta di catamarani, credo sia della Dufu, qui nel porto di Sorrento oggi, e poi tutto il traffico di questi charter paperini. Spicca e si contraddistingue in questo enorme traffico un peschereccio, perché è circondato dai gabbiani, ma è piccolino. Tutti mangiano pesce e a mare abbiamo un solo peschereccio. Grazie a tutti.